Insomma non è una cosa di piccolo momento dire che un generale che è una guardia di finanza è controllata politicamente e che è stata indicata, non è per niente una cosa da poco. Allora io penso che ci sia una maniera semplice, la prima cosa sarebbe non dire queste cose ma la prima prima ancora è non farle, per cui noi non sappiamo se le ha fatte o non le ha fatte, sappiamo che le ha dette, allora se è uno sborone come dice, cito questa parola, l'abbiamo sdoganata anche se i ragazzi ormai sono usciti da scuola oggi e quindi magari ci ascoltano. Comunque se ha esagerato, ha fatto millantato credito, però l'ha detta molto grossa, anche se non era sottosegretario ma tanto più che sottosegretario, c'è una maniera molto semplice non fare quello che ha detto oggi Durigon ma dire non era vero, mi sono vantato con quella persona che tra l'altro non sapevo mi stesse registrando perché c'è la telecamera abbassata, sembrerebbe un undercovered, potrebbe anche essere una bugia, ma è semplice, se una bugia lo dice, mi sono vantata, io mi posso vantare di una cosa, ho fatto una stupidaggine, non è brutto chiedere scusa perché così ne uscirebbe, se non lo dice non ne uscirà. E poi voglio dire un'altra cosa, mi impressiona moltissimo quello che ha detto Salvini, minimizzando, facendo pasticcio tra i soldi della Russia, altri soldi che sono stati, che deve restituire, facendo un po' un calderone, però ha detto non c'è neanche un'inchiesta. Allora questo significa, come dire, se non c'è neanche un'inchiesta su questa cosa di Durigon. Sicuriamoci se ne dobbiamo parlare. Allora il tema è che non è che si parla solo delle cose su cui c'è un'inchiesta, anzi io tendenzialmente quelle su cui c'è un'inchiesta bisogna starci molto attenti perché le inchieste non si fanno sui media, i media rischiano di inquinare le inchieste, eccetera, eccetera, una lezione diciamo di garantismo, non c'è bisogno che ce la facciamo ogni giorno, ma dovremmo praticarla. Ma anche delle cose su cui non c'è un'inchiesta si deve rispondere politicamente, anzi proprio perché non c'è un'inchiesta. Certo, certo, è chiarissimo il tuo ragionamento. Io mi permetto di aggiungere che un'altra cosa che a me sembra rilevante è il silenzio del Partito Democratico. Abbiamo sentito le voci del Movimento 5 Stelle e non il Movimento 5 Stelle di governo. Il Partito Democratico non ha proferito parola, o mi è sfuggito? Una persona ha detto qualcosa? Sì, 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 guarda, te la stavo per leggere, perché poco fa Francesco Boccia, responsabile di enti locali della segreteria del PD, non più un ministro agli affari regionali però, ha detto, penso serva fare chiarezza e che sia bene fare un chiarimento immediato, lo ha detto a Rai News 24. Oh, vedi, Francesco Boccia ce l'ha ascoltato e ha detto che bisogna... Chiarimento immediato. C'è un'inchiesta che si può anche aprire, perché dopo una cosa del genere, dopo una notizia diciamo di questo genere, è normale, è probabile che qualcuno apria un'inchiesta, nel senso che è proprio un'argomentazione che non sta in piedi. Fatemi sentire Borgonovo, mettiamo che sia una smargiazzata, Durigon deve dire qualcosa oppure no? Alla prossima. Grazie.